Sì, è partito, mi sembrava un siluro, sembrava. Allora, noi procediamo un attimo per il recupero dei due buoni vicino al ponte coperto e poi li riportiamo qui dove c'è la partenza. Sì, è partito, è partito, è partito, è partito. Sì, è partito. Quando sei pronto dimmelo. Capito? Pronti? C'è della pompa. Ascoltate. Vai! Vai! Ascoltate. 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 Grazie. Sì 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 Sì